Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, sono le 7.30 di questo primo giugno 2015, si apre una nuova settimana, si apre un nuovo mese, quello che dà ufficialmente via all'estate, ieri in tanti hanno scelto l'ombrellone al posto della cabina elettorale, ieri in tanti sono andati al mare, in tanti si sono probabilmente dimenticati di andare a votare per eleggere il nuovo governatore della Regione Marche, governatore della Regione Marche che però è stato eletto con quei pochi voti che sono stati dati e raccolti ieri nelle urne, è Luca Ceriscioli, il nuovo governatore della Regione Marche, ex sindaco di Pesaro, insegnante di matematica ed ora dovrà governare la Regione Marche. Lo vedremo tra un istante quando leggeremo i giornali anche se poi dovremmo fare ricorso invece a internet perché le elezioni e gli scutini sono finiti tardi. Allora oggi è San Giustino Martire, il sole è sorto alle 5.29 e tramonterà alle 20.43. Adesso andiamo a vedere invece la fotografia di questa nuova giornata che si apre con il cielo sereno o poco nuvoloso anche se vedremo tra un attimo dalle previsioni della protezione civile delle Marche nell'entroterra, non sarà così sereno. 17 gradi, quasi 18 gradi la temperatura alle 7.30 del mattino e allora vediamo subito che cosa ci attende oggi dal punto di vista meteorologico. Avremo cielo sereno poco nuvoloso lungo la fascia costiera mentre irregolarmente nuvoloso dal pomeriggio nell'entroterra dove sono previsti anche rovescio temporali sparsi a partire dalle ore centrali. Le temperature in ulteriore lieve aumento sui settori costieri, localmente lieve diminuzione nei valori massimi sulle zone interne in caso di temporale, i venti a regime di brezza. Per la giornata di domani giornata di festa 2 giugno cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionarie o addirittura in lieve aumento. Per il resto della settimana il tempo sarà caratterizzato da sole e temperature decisamente estive. Allora dicevamo delle elezioni, dicevamo il partito dell'astensionismo è sicuramente il partito più forte e dunque bisognerà tenerne conto. Ci sono delle sorprese, spacca arrivato quarto, secondo il Movimento 5 Stelle, terzo il centrodestra, insomma Fratelli d'Italia Lega Nord. Pochi alle urne, scrive il resto del Carlino questa mattina sulla pagina delle elezioni regionali, pochi alle urne, Celiscioli è dato vincente. La nostra provincia supera il 50% e fa un po' meglio del resto delle marche. Vota la metà esatta degli elettori. Exit poll pro sindaco, Movimento 5 Stelle secondo e spacca lontano. Secondo le proiezioni superata la quota relativa al premio di maggioranza. Poi sempre sulle elezioni, effetto ceriscioli, scrive il Corriere, a Pesaro non si sente. La sua provincia con il 50,58% porta alle urne meno votanti di Ancona. Vince la disaffezione alla politica. L'elezione del sindaco Fada Traino a Sant'Angelo in Vado votano il 69,31% degli aventi diritto e a Isola del Piano addirittura l'84,34%. Però ricordiamo che, come diceva appunto il giornale, che a Sant'Angelo in Vado si votava anche per il sindaco e soprattutto dopo un anno di commissariamento. A Isola del Piano lo stesso si votava per il sindaco. La maglia rosa va comunque a Piobbico con un 67,78%. Fanalino di Coda, invece, Sassio Feltro dove ha votato soltanto il 36,88% degli aventi diritto. I fanesi vanno al mare in serata. C'è stato soltanto in serata un lieve recupero a stensione più alta rispetto ai centri maggiori, ma ci sono anche i fedelissimi che avevano esaurito gli spazi timbrabili nella scheda elettorale, quindi per dire, insomma, quelli che non mancano mai. Città Ducale, Urbino riconferma la sua tradizione, l'ultima rilevazione effettuata alle 23, fotografa alle urne il 54% degli aventi diritto al voto. Poi sul messaggero, invece, il messaggero di Pesaro vince Ceriscioli, crolla, spacca il candidato del Partito Democratico accreditato al 39%, al secondo posto il Grillo Maggi con il 24,8%, Acquaroli sul filo di lana per il terzo posto. A Pesaro si è recato alle urne il 50,58%, la metà, come dicevamo, degli aventi diritto. Questa è la situazione, ma ovviamente poi i giornali a una certa ora hanno dovuto chiudere le pagine ad andare in stampa, quindi andiamo, tra poco vedremo il internet. Poi le altre notizie, le altre notizie c'è il calcio, il calcio con il Fano che ha vinto ieri la sua corsa, prosegue dunque la sua corsa dei playoff, ha vinto in casa ai rigori questa volta 5 a 3, questo è il risultato finale. Questa sera vi faremo vedere tutta la partita dopo il telegiornale che la notizia ha vinto 5 a 3 contro lo Scandicci. Fano dischetto verde per le Final Six, due pagine interamente dedicate a questa vittoria. Qui si fa sempre più dura, dice mister Alessandrini, ma noi andiamo avanti. Bravi i ragazzi a reagire ad un rigore inesistente. Il bomber Gucci, alla fine è uscita fuori tutta la forza psicologica di un gruppo che non molla mai. Ecco Alessandrini che evidentemente sta andando, sta facendo qualcosa nei confronti dell'obiettivo del fotografo che prontissimo ha scattato la fotografia. Poi sempre sulla pagina del resto del Carlino, sotto l'uomo assist è ancora Borrelli, torna il più lucido della difesa, Sartori indugia nei personalismi. Allora andiamo adesso sull'altra pagina del resto del Carlino perché insomma quando due persone cambiamo argomento, lasciamo le regionali, lasciamo lo sport, parliamo invece di un'associazione che è stata fondata nel gennaio di quest'anno, un'associazione che si occupa di quei padri che vivono il dramma della separazione, non tanto dalla moglie ma quanto dai figli. Ecco perché è nata questa associazione che si chiama Papà non sei più solo e dove in certi casi interviene dove ci sono le madri padrone e padri fantasma. In un caso su due il principio di bigenitorialità sancito dalla legge è solo un bel provvedimento sulla carta, dice Roberto Bastianelli che è il presidente di questa associazione, una Ollus, è andata a Pesaro nel gennaio di quest'anno per offrire ai padri una rete di tutela nel momento della separazione e dice permettere la visita ai figli dalle 19.30 alle 21 tre volte alla settimana come accade a me non credo che sia una soluzione equilibrata. Noi padri discriminati, nell'affido condiviso è una scelta culturale. Roberto Bastianelli rilancia visioni femministe. Ok, l'altra pagina di Fano invece del resto del Carlino, la pagina di Fano Urbino. Allora, Barnesi, l'assessore, si svolge regolarmente il servizio interpreti per sordomuti e poi a Calcinelli arrivano 20 immigrati. Il sindaco convoca una conferenza stampa. L'appuntamento è per le 21 al centro sociale del quartiere Posta Vecchia. Accanto al sindaco ci saranno i responsabili della cooperativa Labirinto che si occuperà dell'accoglienza di questi 20 immigrati. Il Papa, Papa Francesco, non dimentica Andrea Ferri, l'uomo ucciso due anni fa. In occasione di questo anniversario Francesco chiama la famiglia. E poi la casa dell'acqua è a rischio flop. Siamo a Fossombrone, il servizio non decolla e dicono ci vuole più informazione. Andiamo adesso avanti, apriamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico. In primo piano questa bella iniziativa che tra l'altro ieri ha visto tantissima gente affollare Viale Gramsci e il Pincio di Fano dove c'è stata la manifestazione La Città da Giocare. Una iniziativa dedicata ovviamente ai più piccoli, genitori e bambini insieme, per questo evento che è stato davvero un successo, un successo di partecipazione e divertimento. Anche il Consiglio Comunale dei Bambini giovedì si svolgerà nell'Aula del Municipio a sottolinearne il significato. E questi sono alcuni momenti appunto di questa iniziativa. Poi da Fano sempre sul Corriere Adriatico, il club 107 frecce tricolori, sfrattato dalla sede in aeroporto. Fano un fortuna e aumenta l'affitto e il suo dalizio va a Sassonia Sud. La società intende realizzare un terzo hangar in cui ospitare la sede dei Vigili del Fuoco. Pier Mattei e la storia dell'anarchico Orciano. Il Fanese fu arrestato con Sacco e Vanzetti. Anche l'agricoltura pesca la carta del rinnovamento. In assemblea 500 soci della cooperativa di Falcineto evidenziano la necessità di un nuovo approccio. Abbiamo visto la pagina principale del messaggero. Entriamo nelle pagine interne. Parla Giampaoli. C'è questa intervista a Rodolfo Giampaoli. Lo vedete in questa immagine. Ex presidente della regione Marche. Giampaoli ultimo governatore espresso dalla provincia di Pesaro. Spero che questa provincia torni ad essere considerata alla pari delle altre. Spacca con il centrodestra. Penso che nella DC queste cose non succedevano. Un avversario politico che stimavo, dice Giampaoli, Stefanini. Sotto ancora altre notizie che potrete leggere sulla pagina di Pesaro del messaggero. Poi ancora dalla pagina di Pesaro. Prove di sosta al mare. Parcheggi aperti da domani. Il servizio Navetta scatterà invece il 6 giugno nei weekend. Tutti i giorni del prossimo mese. Partenza da San Decenzio. Poi la deputata Ricciatti visita il carcere di Fossombrone. A Cagli invece un fulmine. Si abbatte su un'azienda. Stiamo parlando del maltempo di qualche giorno fa. E poi prefetti e truppe di Striscia si sfidano a calcio per mandare in rete la solidarietà. L'appuntamento è per il 12 giugno a Stadio Mancini. Il ricavato servirà a finanziare le associazioni attive nel volontariato. Torniamo per un attimo sulla pagina principale del messaggero per questa notizia di cronaca. Grave giovane travolto da un'auto pirata. L'investitore è stato rintracciato grazie ad un carabiniere in pensione. Stiamo parlando di un trentenne di gradara, Leonardo Gennari, che è stato travolto in moto da un'auto pirata in Romagna. È successo nella notte a cavallo tra sabato e domenica tra Miramare e Riccione. E poi ancora cronaca. Ex giocatore della Scavolini arrestato. Chris Gatling nel 2003 aveva finito a Pesaro la sua carriera e adesso si trova in carcere per frode a 47 anni. Ed è un ex giocatore di basket della VL, quando ancora si chiamava Scavolini. Allora, prima di salutarci andiamo a leggere velocemente internet, come dicevo, perché i giornali ovviamente hanno dovuto chiudere la pagina in una certa ora e di conseguenza non sono molto aggiornate, anche se ovviamente hanno scritto quella che poi era la realtà, anche se dagli exit poll, eccetera, eccetera. Quindi andiamo sul sito di Occhio alla Notizia, il nostro portale, che fino a tarda notte con la redazione Simona Zonghetti ha aggiornato davvero in tempo reale tutti i dati. Tant'è vero che la pagina ovviamente apre con, vedete, la fotografia di Luca Ceriscioli che brinda insieme ai suoi collaboratori. C'è anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Il titolo è Luca Ceriscioli, il nuovo governatore delle Marche. Quindi questa è la notizia che potrete leggere andando sul nostro sito internet. Dunque Luca Ceriscioli vince seguito dal candidato del Movimento 5 Stelle Gianni Maggi e da quello di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Francesco Acquaroli. Mentre crolla l'ex presidente Gian Mario Spacca, ex PD, candidato per la terza volta dopo aver rotto con il centro-sinistra, seguito a grande distanza dal candidato di altre Marche, Sinistra Unita, Edoardo Mentrasti. Così le Marche chiudono la lunghissima pagina di Spacca alla guida della Regione, presidente per due mandati dal 2005, assessore o vicepresidente nei dieci anni precedenti. Cambia dunque il presidente, non la coalizione, un centro-sinistra formato da PD e vari cespugli raccolti in due liste. Una Laica, Verdi PSI, IDV Civiche, l'altra Popolare, Udc e Popolari Marche. Ceriscioli, chi è Ceriscioli? 49 anni, ex sindaco di Pesaro, insegnante di matematica, si definisce un semiprofessionista della politica, accoglie l'obiettivo e supera il 40%. A scurtinio quasi ultimato, sfiora il 41%, che assicura dunque alla sua coalizione il premio di maggioranza di 18 consiglieri sui 30 più lui del nuovo consiglio regionale delle Marche. A seguire, con molto distacco, dicevamo, un exploit del candidato del Movimento 5 Stelle Gianni Maggi, con il 21,8% dei voti, tallonato da Francesco Acquaroli, il sindaco quarantenne di Potenza Picena, con il 19%. La linea della chiarezza paga e non quella del sostegno. Hai volta gabbana, ha commentato su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Spacca, alla testa di una coalizione formata da Marche Ventimenti, Area Popolare, Forza Italia e Democrazia Cristiana, resta dunque al palo. Anche se i pronostici della vigilia lo vedevano testa a testa con Maggi come miglior perdente. E' solo quarto dunque, spacca con il 14,16% dei consensi, dopo una campagna elettorale in cui vari big nazionali, come il ministro Maria Elena Boschi e lo stesso premier Matteo Renzi, lo hanno accusato di avere cambiato casacca e di essere attaccato alla poltrona. In nottata, con un comunicato, prende atto del risultato alle urne e dice, spacca, il dato elettorale indica che il nostro progetto per le Marche non è entrato nel cuore dei marchigiani come avremmo sperato. Eppure quel progetto doveva essere un modello da esportare in tutta Italia, caldeggiato da Gaetano Quagliariello e dal nuovo centrodestra, l'approdo sul territorio di area popolare. Ma la formazione centrista di spacca ha raccolto solo il 3,92% e Forza Italia il 9,43%. Dopo l'ex governatore viene mentrasti, dicevamo, con una formazione che raccoglie SEL, Partito dei Comunisti Italiani, rifondazione e altre sigle di sinistra con il 3,97% dei voti. Rivoluzionato il Consiglio regionale marchigiano, i tre maggiori partiti saranno dunque il Partito Democratico che dovrebbe esprimere 15 consiglieri, poi Movimento 5 Stelle e Lega. Sullo sfondo, ma incombente, l'alto tasso, dicevamo, di astensionismo. L'affluenza alle urne si è fermata al 49,7%, quasi 13 punti in meno rispetto alle regionali del 2010. In pratica un marchigiano su due non è andato a votare. Disaffezione verso la politica, stanchezza per i litigi tra i partiti o interni ai partiti e tra i candidati, certo, ma forse anche un crescente disinteresse o disincantato verso l'istituzione regione. È tutto, questa sera nel telegiornale delle 20 e 30 faremo un riepilogo e vi diremo come è andata questa giornata post-elettorale. Intanto mi fermo qui, grazie per aver seguito Occhi e Giornali. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.